ti saluto con la pace del signore dio di benedica anche oggi mercoledì 21 settembre 2022 sono felice perché perché domani assieme a lorena partiamo per il veneto andiamo a trovare i nostri figli staremo qualche giorno quattro giorni all'incirca insieme a loro quindi il nostro cuore è pieno di gioia e volevamo condividerlo con voi e poi ovviamente vi chiediamo di pregare perché in questi giorni che siamo là noi oltre a chiedere la protezione e la benedizione di dio desideriamo passare un buon tempo con i nostri figli con il nostro nipotino vogliamo anche trovare un momento magari per poter pregare insieme a loro magari poter trovare un momento per potergli parlare di Gesù quindi prega per noi che il signore ci possa guidare ed accompagnare sai una cosa il mio desiderio e credo che dovrebbe essere il desiderio di ogni cristiano nato di nuovo sai qual è ai piedi della croce io starò contemplando la grandezza del suo amore prostrandomi ai tuoi piedi adorerò ricevendo la tua grazia nel mio cuore amen questo è il desiderio stare ai piedi della croce perché quando stiamo ai piedi della croce possiamo contemplare la grandezza dell'amore di dio quell'amore che ha portato Gesù a lasciare il cielo a venire interno a farsi uomo e alla fine a morire per i miei e per i tuoi peccati quando facciamo questo ogni giorno la nostra fede sale arriva al picco massimo e poi continua ad aumentare continua ad aumentare sì perché quando noi abbiamo abbiamo lo sguardo fisso su Gesù lui crea la fede amen e la rende perfetta gloria a dio dice così la parola del signore di questa mattina ed essi dissero l'uno all'altro non sentivamo forse ardere il cuore dentro di noi mentre egli ci parlava per la via e ci spiegava le scritture vangelo di luca capitolo 24 versetto 32 il titolo di questa meditazione biblica è questo una soluzione agli scontri tra generazioni caro ascoltatore se l'atteggiamento dei vostri genitori vi induce a pensare che nessuno vi ami e vi comprenda preparati vado ad accettare che la generazione che vi precede disorientata di fronte al vostro risentimento possa anche non comprendervi Gesù è venuto da parte di dio per mostrarci che ci ama e ci comprende la sua stessa vita terrena nel corso della quale andò di paese in paese per fare del bene a tutti ricchi poveri malati bambini giovani anziani nella più palese dimostrazione un giorno due persone andavano verso il villaggio di emmaus erano rattristate deluse dalla morte del signore e discutevano tra di loro ed ecco che Gesù risuscitato andò loro incontro e gli chiese di che discorrete fra di voi lungo il cammino e Gesù li ascoltò attentamente dopodiché parlò loro attingendo dalle scritture e rispose ai loro dubbi il vangelo ci dice che alla fine del colloquio il loro cuore ardeva d'amore per lui Gesù è vivente e anche oggi vuole avvicinarsi ad ognuno di noi pronto ad ascoltarci quando gli parliamo delle nostre preoccupazioni delle nostre delusioni e se leggiamo la bibbia e crediamo che sia veramente la parola di Dio e gli ci risponde è facile constatare quando la bibbia sia attuale e si applica a tutti i tempi a ogni situazione essa spiega la ragione del malcontento delle incomprensioni fra generazioni e più in generale ci mostra la radice di ciò che avvelena tutte le relazioni il peccato entrato nel mondo per la disubbidienza a Dio dei nostri progenitori riconoscere davanti a Gesù che la nostra vita è contrassegnata dal marchio di questa disubbidienza ci porterà ad avere amore per lui per i nostri familiari per i nostri amici e come vuole Gesù anche per i nostri nemici lo ripeto e come vuole Gesù anche per i nostri nemici gloria a Dio mi dirà dice ma come è possibile Andrea poter amare anche i nostri nemici beh non è difficile è solamente una questione di ginocchia ora vengo e mi spiego è solo una questione di preghiera ovviamente in ginocchio perché io parlo personalmente quando io prego mi metto in ginocchio per me la preghiera va fatta in ginocchio con gli occhi chiusi davanti alla presenza di Dio in umiltà in sottomissione perché quando preghiamo ecco una parentesi entriamo alla presenza di Dio parliamo con Dio e lui ci ascolta quindi è buono stare in riverenza davanti a lui io non so come tu sei solito pregare ovviamente si può pregare in qualsiasi modo io anche mentre con lo scooter divido la posta magari faccio una preghiera però quando ho il tempo quel tempo per chiudermi nella mia cameretta e pregare lo faccio in ginocchio ecco volevo dire questo perché ecco ho perso il filo del discorso però va bene vogliamo parlare proprio di questo del fatto che Gesù dice di amare i nostri nemici è una questione di preghiera più siamo in contatto diretto con il nostro signore più il suo amore aumenta in noi più la sua pace aumenta in noi più la sua gioia aumenta in noi più la potenza dello spirito santo aumenta in noi e tutto ciò a cosa ci serve per dare agli altri per amare i nostri nemici per fare del bene a quelli che ci perseguitano per dare una parola di incoraggiamento a coloro che ci vogliono male per andare a dare un abbraccio a colui che ci ha tradito a colui che ci ha ferito sì perché l'amore vince su tutto gloria a Dio il signore ti benedica e ti fortifichi nello spirito noi ci vediamo domani al solito appuntamento con il calendario cristiano il buon seme un abbraccio virtuale a te che stai ascoltando e a domani pace a te